L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Grazie.